Un nuovo regolamento di contabilità al Comune di Pescara lo chiede il Movimento 5 Stelle perché consigliera Sabatini questa contabilità è ancora in lira e non in euro. Sì, chiediamo da oltre due anni che venga adeguato il regolamento di contabilità alle norme che la legge ci impone. Lo chiediamo da due anni, addirittura a settembre avevamo presentato degli emendamenti che poi abbiamo ritirato perché l'amministrazione aveva preso l'impegno di portarlo in commissione entro il 7 di ottobre. Siamo al 16 di novembre e questo non è avvenuto. Perché è importante? Il regolamento di contabilità è uno strumento fondamentale per la gestione economica e finanziaria di un ente. Ricordiamo che il Comune di Pescara è un ente in predissesso e quindi per esempio attraverso questo regolamento si vanno a definire anche quelle che sono le fasi e le norme relative ai debiti fuori bilancio che oggi in questo ente stanno diventando non più strumenti straordinari ma ormai strumenti ordinari. Tant'è vero che i revisori dei conti che sono in qualche modo l'organo esterno di controllo sull'ente ad ogni delibera che riguarda il bilancio chiedono che venga adeguato il regolamento di contabilità. Quindi risulta uno strumento fondamentale per la gestione economica e finanziaria di questo ente che come sappiamo ha il cuore pulsante di qualunque attività che poi riguarda un Comune. Questa mattina avete presentato in consiglio degli emendamenti? Sì perché chiediamo, pretendiamo, che venga messo appunto all'ordine del giorno della commissione finanze l'adeguamento di questo regolamento di contabilità. Sono tre anni che l'amministrazione PD promette, si impegna a portare avanti questa attività e non lo fa, quindi è arrivato il momento invece di rispettare questo impegno e noi lo chiediamo con forza.